Terri un inizio difficile e poi avete disputato un'ottima prestazione, è vero che mancano i punti però si può ripartire da qui per chiudere al meglio questa stagione? Io penso di sì, penso che appunto come hai detto tu c'è stato un inizio difficile però abbiamo dato segnali positivi soprattutto perché non è una squadra facile da giocare per cui penso che per la situazione che stiamo vivendo ora abbiamo dato una buona spinta. Adesso insomma si guarda avanti alle prossime sfide, da cosa si riparte e quali sono gli aspetti su cui cercherete di lavorare? Sicuramente la voglia di non mollare che penso l'ultimo set abbiamo mollato un pochino ma ce ne siamo rese conto quindi penso che sicuramente quello e la difesa, penso che oggi abbiamo dato una buona prova di difesa, penso sono le cose che ci dobbiamo portare nelle prossime partite.